Rubino, Rubino, Rubino non è una roba grave però ci sono rimasto un po' male qua devo essere sincero personalmente sapete che scherzo sempre con Rubino trollo sempre ma non supero mai il limite Rubino stesso non ha mai detto in live, che ne so, Marra esagerato oppure in privato, non mi ha mai detto nulla io cerco sempre di scherzare con Rubino rimanendo dentro determinati limiti però ha detto una cosa falsa sulla nostra chat che voglio un attimo commentare Rubino si è lamentato molto sentitamente del fatto che noi lo prendiamo per il culo non lo prendiamo per il culo come stiamo facendo ora ma noi spieghiamo che siamo amici che gli vogliamo bene tu ci avrai parlato tante volte in privato perché comunque lo conosci bene ma lo sa Davide tante volte ma io stesso mi ricordo una volta che lui venne all'acenso a Milano e io parlavo proprio di persone e ho fatto ah bello che sei venuto qua e proprio a un certo punto mi è venuto in mente siccome abbiamo fatto live si fa sempre ah la ragazza così io ho detto oh Rubino ma non è che riferito alle robe che ogni volta stavamo magari esagerate da fastidio e lui mi disse quella cosa ma no ma lo capisco che voi rispetto a darti scherzate quindi non ti preoccupare vai in caso fosse troppo al primo io a posto quindi lo sappiamo sì quello è così però nel senso ovviamente non mi sembra che da qui arrivi cattiveria perché tu sei quello più spesso chiamato in causa per esempio da Rubino sul fatto della cattiveria pura verso lui io non ci ho mai vista sta cattiveria di talità no ma io soltanto puoi parlare per te stesso però io da esterno non te vedo accanito però ne abbiamo parlato è quello che è successo magari io e te siamo amici e ci frequentiamo poi succede che in periodo ci frequentiamo di meno e quindi ci allontaniamo un minimo e quindi magari tu senti una cosa che ho detto la malinterpreti perché comunque ci siamo allontanati un minimo e quindi c'è bisogno a noi è pure successo è successo questo è successo questo ma io ho linkato Rubino come diceva anche Simone Manuxone deve decidere in che campo da gioco giocare è lo stesso discorso di Manuxo io la stessa cosa mesi e mesi fa quando tutti mi dicevano no ma esagerato io dissi la stessa roba a Manuxone inizialmente era il discorso di Repicono quindi dissi distaccati dalla mammella perché altrimenti ti prenderei anche le conseguenze di quel pubblico tossico che quando non avrà più il duplicato del suo idolo ti sputeranno in faccia e scegli che tipo di toni vuoi usare su Twitch caro Manuxino la stessa cosa dico a Rubino nel senso tu secondo me sei formidabile David quando utilizzi determinati registri comunicativi io te l'ho sempre detto pure in privato a me ad esempio Live al Samsara mi piaceva un botto a me piace quando tu sei energico e positivo quando diventi diciamo nichilista distruttivo astioso più che altro quando diventi ogni tanto può far ridere non fa una robbia però finché sono micro scatti ma all'interno di un contesto più tranquillo quando invece vedo che hai un mal di vivere e nella tua live esce fuori solo frustrazione interiore lì il contenuto diventa secondo me respingente o attira solo hate watching ti rendi vulnerabile a quel tipo di spettatore che vuole vedere solo quello e che gode quando succede quello io non ho mai criticato le live al Samsara io ci metterai in mezzo pure la chat come stavo a di prima che è la conseguenza la chat è chi è la chat è il pubblico che guarda la partita di calcio o di rugby è questo che sto dicendo cioè il problema secondo me è la parte di molti content creator non è un discorso di ipocrisia mi sono rotto il cazzo di questa roba dell'ipocrisia è uno svilire il discorso si può anche parlare di ipocrisia ma è una roba ormai talmente facile che anche Asia Mucci è in grado di capire siamo tutti ipocriti va bene ok una volta che abbiamo scritto Rubino ipocrita Manux ipocrita grambaud ipocrita marra ipocrita andiamo un attimo oltre perché Rubino Grambaud o altre persone e magari non il rosso che può essere lo stesso criticabile per certi comportamenti ma non entra in questa dinamica esattamente come detto ieri con Sespo perché Sespo ha una certa visione perché entrano in paradossi in problemi di questo tipo perché hai delle live in cui fai un contenuto magari borderline definibile da molti trash in cui hai un certo tipo di personaggio spinto in cui fai una roba e quindi magari il pubblico si modella su quel contenuto lì tu selezioni e anche la roba della sezione commenti è rilevante selezioni un certo tipo di pubblico che da te vuole una certa cosa e ovviamente non è disposta poi ad accettare una serietà nel momento in cui la pretendi quando pretendi un'attendibilità che non hai portato avanti per scelta in un discorso editoriale è una scelta editoriale di creazione per tua scelta di creazione del tuo personaggio poi arriviamo alla parte più problematica quando parlerà della chat del cerbero e qui secondo me David hai fatto una cosa brutta nei nostri confronti e nei confronti delle persone che ci seguono in buona fede spero nonostante un manuxo aleggiante nella tua chat pronto a slecchinare per ricercare il consenso perduto esatto però andiamo avanti questo è proprio l'esempio però andiamo avanti andiamo bene andiamo avanti perché tutte queste cose poi mi incazzo mi incazzo perché tengo al mio lavoro c'è il manuxo ora un altro che si chiama tu mamma pecora io prendo le critiche da questo o da un altro che sotto ogni video mi rompe il cazzo ma critiche ma che me frega vedo vedere ricordare che loro sanno chi so io e manco lo sanno ma io non so chi sono loro e adesso vi dico un'altra cosa sto parlando con un'agenzia ecco un'altra cosa mi è venuta in mente molto importante scusate sul campo da gioco che cambi troppo spesso a partita in corso alle volte vuoi fare il sigma che risponde in questo modo alle volte vuoi fare il sto soffrendo ho delle difficoltà alle volte interpretato il te compro ho i sordi alle volte mi servono soldi per anche questo capite è anche questo secondo me che non capisci il punto di vista del regista la visione del regista quando faccio una lettura di questo tipo un'analisi cinematografica su un film magari dico non ho ben capito qual è il punto di vista del regista qual è il messaggio di questo film oppure c'è un buco di trama perché il personaggio nell'atto 1 mi dice non ho una lira nell'atto 3 mi dice mi sono comprato una macchina ho pagato la cena a 7 persone o ho i sordi questo è un altro esempio ma ce ne sarebbero tanti come è possibile che la maggior parte di quelli che mi fanno hating vengono dal cerbero ecco questa è una cosa gravissima gravissima oltre che falsa e non dimostrabile ma adesso glielo chiederò quando qua mi sono veramente incazzato abbiamo parlato più volte ma non ho riferito a Rubino ma riferito a chiunque Rubino per me è vero non esiste per me è vero non esiste esiste una cosa vera o una cosa falsa nel momento in cui parli di un qualcosa ma adesso ti faccio entrante preoccupate ci siamo fatti un culo così in tutti questi ultimi anni per forgiare un certo tipo di umorismo un certo tipo di livello massimo in cui si può scherzare ma è veramente un lavoro estenuante giornaliero compreso questo discorso che sto facendo adesso e leggo spesso i cerberini che rompono i coglioni in primis a noi ma ma la persona veramente che ci segue non è sicuramente una persona sboccata per un semplice motivo qui non viene cibata di quella melma cioè la gente che vuole riversare odio e scrive delle porcate perché poi spesso Rubino ne riceve poraccio delle porcate indegne a Rubino delle cose schifose sicuramente un accanimento io non dico sicuramente non guarda i live del share perché non lo posso sapere ma sicuramente non trova nutrimento qui invece trova nutrimento in molte altre chat che stranamente vengono sottratte nel discorso di Rubino perché uno sta lì a leccalculo e gli altri sono utili a Rubinone e viceversa forse non lo so e questo io non lo accetto non accetto che qualcuno dica no Blur Grimbaud Manux o chat immaculate nessuno mi ha mai criticato sono solo quelli del Cerbero Rubino questa è una diffamazione in piena regola è una roba indegna proprio indegna mai detto? ascoltiamo anche perché qua ascoltiamo qua chi viene qua chi usa un certo tipo eh del linguaggio e della narrativa non soltanto non viene alimentato ma spesso e poi viene inculato stiamo scherzando quante volte Simone si è inculati ma il discorso sul nutrimento è invece e come e come enfatizzato in quelle tre chat Grambaud un po' di meno devo dire Grambaud molto meno rispetto agli altri due molto meno cioè lì proprio trovano patria sì sì da Manux cioè proprio non vediamo l'ora di avere senza contare che poi anche numericamente ad esempio quella di Blur ma anche quella di Grambaud è superiore alla nostra è quasi incontrollabile quella di Blur pure con l'impegno come cazzo fai possibile che la maggior parte di quelli che mi fanno hating vengono dal Cerbero perché se cioè ma come è possibile cioè ma come fa a sapere alla fine alla fine mi insurta pure Gianmarco però la chat di Gianmarco mi vuole bene ma in base a cosa può stabilirlo questa cosa è molto grave David veramente ci sono rimasto malissimo ci sono rimasto malissimo perché proprio è vero Rubino Rubino ma scusami un attimo Blur c'ha 40.000 persone in live tu adesso sai che poco poco nella tua chat non guarda i live di Blur non c'ha il sub da Blur e quelli che scrivono account fake su Youtube Rubino non in grado coglione sono fan di Mr. Marra te lo posso dire per certo ho visto clip di Blur in cui Blur prendeva in giro affettuosamente Rubino perché loro si sfondano a vicenda comunque così e c'era gente in chat che diceva grande Rubino e gente diceva cose indegne esattamente come da noi da noi penso che la percentuale sia un po' più alta delle persone che omaggiano Rubino ripeto anche dal punto di vista logico almeno da quello che leggo sempre io secondo voi vedo insulti c'è qualcuno che viene bannato dopo un secondo secondo voi un atteggiamento tossico e schifoso nei confronti in questo caso di Rubino come può essere Coesci come può essere chiunque altro un atteggiamento tossico in una chat viene alimentato o tollerato ok in un'altra viene condannato secondo voi in quale delle due chat ci sarà una proliferazione di questo mondezzaio ma così ad intuito su due piedi se tu lo risponde no c'è già questo discorso qui che mi sembra un discorso lineare in molte chat non viene fatto quante volte abbiamo parlato di educazione e anche di contesto in cui fare una battuta greve una battuta completamente scorretta è diverso se tu dai una battuta una battuta magari condita da black humor pesantissimo ad un pubblico di imbecilli perché ovviamente non sapranno comprenderne l'essenza ma la utilizzeranno per in ipotesi ovviamente per atti autoindulgenti ma certo no? se lo dice lui perché è un grande io pure posso dire che gli n sono perché ha detto lui poi magari non è che ha detto quello ha fatto una battuta costruita in maniera incredibile quella Simone mi vuole bene quella Teomi mi vuole bene perché? perché io sono micostro è quella la cosa è quella la cosa che che mi domando e gli ho chiesto pure a Simone tu sei il primo dei deficienti infatti visto che sei un troll da secoli ovvio che i deficienti ci sono anche qua ma dobbiamo fare questi discorsi da prima elementare guarda è stata detta un'altra cosa il messaggio che passa in questa clip in tante altre live che ho visto di Rubino ma che ho evitato di portare qui al Cerbero le clip che mi mandano ho evitato perché non me va perché non ho problemi con Rubino gli voglio bene però mi sono un po' rotto i coglioni che l'ennesima volta mi devo sentire dire quando non è vero che solo quelli del Cerbero mi buttano merda quella di Gianmarco mi vuole bene quella di Omidon mi vuole bene quella di Grimbaud mi vuole bene quella di Manux mi vuole bene solo perché mostra in quell'ambiente lì e non funziona così ma sono in primis i suoi i suoi i suoi regolari eh no io questo non me lo bevo che fanno quella roba là perché è un attacco sul mio lavoro ma è un attacco sul mio lavoro ragazzi ma non perché mi danneggi il fatto che Rubino dica questo anche e questa robaccia qui ha contribuito anche negli anni ad una falsa nomea sul Cerbero e sul pubblico del Cerbero e se io leggo ancora Cerberini cancro del web è perché la gente continua ripete sta stronzata e io non me la bevo perché mi ci impegno a fare questo lavoro cioè in questo momento io mi sto impegnando e ho deciso di non fare l'imitazione di Rubino a Caps perché non è oggi il giorno in altri contesti lo si fa come il lupo rende per culo a me e va benissimo in questo caso come ogni giorno in realtà ci prendiamo delle parti di live per fare dei discorsi seri e questa cosa non lo accetto grazie a tutti